ciao a tutti oggi andiamo a lavorare un nuovo modello di calza lavorata a maglia allora io questa calza la sono andata a lavorare con due fili quindi due gometoli di lana quindi filo a doppio ma volendo voi potete anche lavorarlo con un solo filo allora io con i fili a doppio quindi vado a lavorare con i ferri numero 5 ma se utilizzate un solo filo andate a lavorare con i ferri numero 4 e mezzo oppure 4 allora iniziamo mettendo su sui ferri 74 maglie se volete una taglia più grande mettete 70 76 se volete una taglia leggermente più piccola mettete 72 a voi di regolarvi allora una volta che abbiamo messo su quindi tutte le maglie adesso andiamo a fare 18 giri di punto a legaccio quindi punto a legaccio si sa si va a lavorare sempre uguale da una parte e l'altra io lavoro al dritto una parte dell'altra ma ci sta anche chi lavora a rovescio da una parte dell'altra ma il risultato è sempre uguale quindi allora io faccio adesso tutto il giro al dritto e volevo anche dirvi io lavoro con i ferri a rovescio ma potete anche lavorare con dei ferri normale perché io una questione di praticità quando faccio il video ecco qua allora ho fatto il primo giro di tutte le maglie al dritto adesso rifaccio ancora un altro giro di maglia al dritto e così fino ad ottenere 18 giri di legaccio ecco qua vedete si comincia a vedere il punto legaccio quindi continuiamo così per 18 giri e ci dopo allora ecco fatto i 18 giri vedete abbiamo 9 strisce 9 righe quindi sappiamo che abbiamo fatto 18 giri adesso incominciamo diciamo il modellino del centro della calza allora è semplicissimo andiamo a fare due punti due maglie al rovescio e due maglie al diritto quindi andiamo a fare praticamente andiamo a lavorare a coste 222 rovescio e due dritto due rovescio e due dritto e questo andiamo a fare così per ehm 14 giri ecco qua due al diritto e due al rovescio ho fatto il primo giro ed è si cominciano a vedere e ricomincio di nuovo sui due dritto maglie a dritto vado a fare due al dritto sulle due maglie a rovescio quindi veramente niente di complicato proprio facilissimo facilissimo le calze che vi faccio vedere sono proprio semplicissime da fare e anche molto carine ecco qua quindi adesso io vado continuo così fino ad ottenere 14 giri ecco fatto i 14 giri quindi adesso andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio andiamo a rifare 9 giri di punto legaccio ecco qua io inizio al dritto ma voi potete cominciare se avete l'abitudine lavorare a rovescio il punto legaccio iniziate a rovescio io faccio sempre al dritto quindi quindi comincio al dritto ed ecco qua adesso io ho fatto al dritto adesso continuo il mio punto legaccio fino a fare sempre come prima 18 giri si vede già il rovescio ecco quindi continuiamo così per 18 giri ecco qua fatto anche i 18 giri e praticamente la calza è finita ok allora adesso io mi avvicino per farvi vedere un po come si presenta il lavoro vedete abbiamo 18 18 giri sotto 18 giri sopra e 14 giri al centro adesso andiamo a chiudere quindi io chiudo in questo modo ecco qua io prendo due maglie le lavoro a rovescio e poi rimetto la maglia sul ferro sinistro e riprendo due maglie per il lavoro ancora a rovescio rimetto una maglia il lavoro le due insieme a rovescio rimetto la maglia sopra prendo le due maglie lavoro a rovescio e chiudo ecco e si va così fino alla fine del delle maglie cercate di non lavorare troppo stretto così le calze vengono belle morbide ecco qua vedete si presenta così la chiusura la chiusura chiudiamo fino alla fine e ci troviamo dopo allora ecco io ho terminato adesso taglio il filo e adesso vado a cucire la calza allora abbiamo bisogno di un ago per la lana io ho preso questo grande perché il filo è doppio quindi ci vuole un ago più grande e vado a piegare vado a mettere un lato sull'altro e vado a cucire su due parti la parte piccola una parte piccola e la grande parte davanti e lasciamo una aperta dove andremo a passare il piede ok allora ecco io quindi ho messo in due e adesso vado a cucire inizio da qui allora mettete un filo abbastanza lungo così evitate di ricominciare due volte allora io passi il filo poi lo ripasso ancora un'altra volta e vado a entrare nel diciamo nel faccio un nudo ecco faccio un nudo tirando entrando nel nel filo adesso prendo la male ma due maglie che sono sul bordo una maglia e l'altra maglia e vado a cucire normalmente prendo le due maglie che si trovano sopra all'esterno questi figli dopo li andremo a entrare all'interno adesso mi danno fa fastidio ma poi li renderemo tutti ecco qua sono arrivato nell'angolo è ugualmente giro e faccio la stessa cosa volendo i figli li potete anche rientrare prima io le rientro alla fine ecco qua quindi continuo così fino al prossimo angolo ok ecco qua io ho cucito tutta la lunghezza adesso sono arrivata sopra la calza sul bordo della calza e vado a passare il mio filo sul bordo per bene per tolgo il filo che stava all'inizio ed è ho chiuso per bene il bordo della calza e adesso vado a entrare con l'ago nelle maglie sottostanti interne ecco li passa un po dappertutto a destra un po a sinistra per far sì che il filo non esce più adesso chiudiamo e da questa parte abbiamo terminato e adesso va andiamo ad entrare i fili che mi davano fastidio ok ecco qua questo quindi è il risultato la calza è finita la potete anche girare così se volete a metterla più corta se no è proprio una calzata un calzettone quindi ragazze molto bella mi piace molto e tiene molto calda è semplicissima da fare quindi veramente anche se sapete lavorare poco 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 la maglia è facilissima ecco ne approfitto vedete la chiusura non si vede quasi per niente e non dà fastidio quando camminiamo perché è proprio il filo la cucitura invisibile quindi ragazze se questo video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like se avete delle domande da farmi scrivetemi qui sotto nell'info box noi ci vediamo alla prossima e vi mando un bacione grande grande ciao bye grazie